Ciao ragazzi sono Foro di Tube e benvenuti a questo nuovo video Beh, di cosa dobbiamo parlare? Di una cosa che forse volevo affrontare sin da aprile, fine aprile insomma dal debutto totale di questo nuovo Bray Wyatt Veniamo un attimo a riassumere velocemente per chi non sapesse cosa fosse successo Allora, quasi un anno fa Bray Wyatt scompare totalmente dalle scene e dai radar WWE Faceva coppia con Metardi e a grossissime linee scompare praticamente del tutto dalle scene Si pensa sia un piccolo infortunio, si pensa sia un periodo di riposo Si pensa sia un semplice rimedio al suo fallimentare personaggio in questo momento Quindi da lì a piano piano diventano due, diventano tre, diventano quattro diventa oltre quasi un anno insomma la sua assenza più che totale L'unico per cui si dice, ah, ritornerà Wyatt, ah, ritornerà Wyatt Si vociferano dei feud, si vociferano dei push, si vociferano dei cambi di personaggio Addirittura si pensa che possa tornare a interpretare i panni del suo primissimo personaggio che abbiamo visto ad NXT e poi nel Nexus a Schierris Personaggio anche questo fallimentare Insomma si pensa di vedere un Bray Wyatt diverso ma comunque più o meno con le sembianze più o meno simili che possa sicuramente provare a tentare una redemption, tentare una risalita per poi probabilmente fallire di nuovo Non è così perché nel post of WrestleMania si inizia a vedere qualcosa di strano Una sorta di marionetta a venire fuori da una scatola, da un pacco Successivamente debutta la Firefly Funhouse Che cos'è la Firefly Funhouse? È semplicemente questo luogo in cui Bray Wyatt, da una sorta di tonio cartonio Ha come suo più grande potere i bambini Lui è colui che è dalla parte dei bambini Un programma per bambini che vediamo ogni giorno in tv Con le stesse cadute, con i stessi tempi di battuta, con le stesse reaction Ovvero c'è una parola divertente in questo caso Yawi Wawi che fa ridere un po' tutti i bambini Che li trascina e li fa anche loro ripetere questa parola E piano piano con l'evolversi Bray Wyatt risulta sempre essere più inquietante Risulta essere più inquietante Quello che fa è macabro, è malato, è cinico, è bastardo Si va a parlare di sociopatia Si dipingono case in fiamme Abbiamo dei fortissimi messaggi che non tutti hanno colto Ovvero una cosa stupida Quando Ramblin the Rabbit viene distrutto da Mercy la poiana Bray Wyatt dice alla poiana Hai fatto bene, non c'è nessun problema Se questo è ciò che ti fa stare bene E ciò che fa esprimere al meglio la tua personalità Hai fatto benissimo a dilaniare il coniglio Quindi solo questa è una cosa che bisogna pensare Che sia un programma per bambini Dei bambini hanno ovviamente bisogno di mettersi in mostra Di far vedere cosa sono Il loro carattere, la loro bellissima vivagità Ed è davvero macabro dire ad una poiana Brava, l'hai massacrato, l'hai scuoiato L'hai distrutto, l'hai sviscerato Hai fatto bene se questo ti fa sentire bene Ti fa sentire te stessa Quindi la cosa è macabrissima E successivamente Bray Wyatt ci rivela il suo segreto The Fiend The Fiend è uno dei personaggi più complessi Che abbia mai visto in WWE al momento Perché Sì, è vero Non voglio smontare nulla Ho un canale che ha il nome dedicato a Bray Wyatt Da quasi sei anni E non lo cambierò E non l'ho cambiato Quando Bray Wyatt faceva schifo Perché dicevo sempre C'è una speranza in questo uomo È fantastico E non mi sono ricreduto infatti Per fortuna Però voglio dirvi Anche Wyatt all'inizio Quando debuttò con la White Family Era così meraviglioso E sappiamo tutti come l'hanno rovinato Quindi sì Mi aspetto tantissimo da The Fiend Mi aspetto tantissimo da Ciò che ci farà la WWE Ma sono abituato a rimanere deluso Dalla gestione di questo wrestler Che mi piace tantissimo È tra i miei preferiti Ma non sanno gestirlo Quindi a me piace pensare Che non è Wyatt Ad avere una seconda occasione Con la WWE Ma la WWE ha ad avere una seconda occasione Con Wyatt Se vogliamo una terza Se potremmo pensare al personaggio Di Husky Harris Che però Aveva molto meno da raccontare Confrotto a Bray Wyatt O all'attuale The Fiend Parlando di The Fiend Che cos'è? È diciamo La seconda personalità demoniaca Del Wyatt Versione tonio cartonio Che vediamo Un Wyatt che dice Di averlo imparato a controllare La sua parte maligna Un Wyatt che dice Che ci racconta Di Diventare totalmente Un'altra persona Quanto indossa quella maschera Un Wyatt con Un nuovo potere Un Wyatt pronto a dominare La WWE E questo mi aspetto Stanno facendo Molto intelligentemente Ci stanno facendo venire Molto intelligentemente La voglia di vederlo Perché Nea Roo Nez Macdown Sto parlando oggi 14 agosto Ce lo hanno fatto vedere Ce lo hanno presentato E quindi Ci fanno Rimanere attorno A questa bestia Perché così La voglio Lo voglio giudicare Un allone di mistero Totale Io mi aspettavo sinceramente Su Balor Addirittura In quel di Summerson Dove ha debuttato Entrata fantastica Qualcosa di macabro È vero Adora la Mandible Claw Su questo personaggio Adora la mosso In cui gli ha girato la testa Ma mi aspettavo Non dico una crocifissione Stile attitudera Ma qualcosa di veramente Macabro Che avrebbe poi Ci sarebbe andato a giustificare All'assenza di Balor Visto che probabilmente Si sposere ha chiesto Diversi mesi di pausa Ci sarebbe stato Davvero figo Dare a Definde Una cosa così macabra Da tenere un personaggio Lontano per mesi Se vogliamo Un po' Stile All of Pain Di Mark Curry Anni fa Però l'avrei fatto solo Con Balor In questo caso Un'altra cosa Che volevo menzionare Nel 2015 Durante uno Dei suoi deliranti promo Questa è una cosa Di cui nessuno parla Ma ne ho parlato Comunque sulla mia pagina Rotto Vrestelmania Bray Wyatt Parlò di Definde Perché Allora Vado più o meno Ho davanti a me Il riassuntino Che mi sono fatto L'ho tradotto Se volete cercarvi il promo Andate a cercare Bray Wyatt The Man in the Woods L'uomo nel bosco Brevemente Ho riassunto E parafrasato La cosa Disse Wyatt Da piccolo Con i miei fratelli E sorelle nel bosco Sentimmo strani rumori Loro fuggirono Io Spinto anche dal coraggio Che mi diede Abigail Decisi di andare Là dove nasceva Quel lamento Quell'urlo Arrivai così vicino Che il suo straziante grido Risuonava continuamente Nella mia testa Poi lo vidi Aveva la faccia pallida Bianca come una perla Avevi i capelli gialli E stretti Come racchiusi In una treccia Sembravano arrivarli Alla ginocchia Aveva gli occhi gialli Come quelli di un gatto Fu li che mi congelai E fui avvolto Dalla paura E iniziai a correre Poco dopo Nel finile Abigail mi rassicurò Dicendo Bray Ma non hai capito Sei tu L'uomo nella foresta La cosa è meravigliosa Se si pensa Che è un fatto Del 2015 In uno dei deliranti Promo di Wyatt Che nessuno Si cagava E ascoltava Ma Ho trovato Su Inter Diciamo Diverse persone Che parlavano Di questo promo Sono andato a visionarlo E la cosa è spiazzante Perché parla Palesemente Di The Fiend Detto questo Si volete chiedere Cosa ne penso Di quel Che è stato il suo match A SummerSlam Penso sia Più che ovvio Che sarebbe stato Una squash Quindi Penso che Il match Non è analizzabile Ma è stato comunque Molto bello E raccontato molto bene Wyatt è meraviglioso A interpretare Questo personaggio E come attore La gente Ho letto Sta dicendo Che Wyatt Ha totale Creatività Del suo personaggio Ma non credo Sia così Anzi Quindi La cosa Non mi sento Di correggerla Perché non sono sicuro Ma dubito Che abbia totale Libertà del suo personaggio Anzi Detto questo Ora fatemi sapere Voi qua sotto Cosa ne pensate Del personaggio Del momento Perché di questo Stiamo parlando E detto questo Noi ci vediamo Ad un prossimo video E ciao